un saluto cari amiche e cari amici un saluto e vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione la palla di pelle rassegna stampa di oggi domenica 26 maggio cominciamo con tutto sport la juve a futuro a te motta leclerc ferrari grandi sogni quindi oggi c'è il gran premio di monaco toro da un senso dai un senso ai tre anni di uric gasp dea si napoli conte e vuole oriali alexandro addio da film un viaggio bellissimo segna un gol ieri palladino monza che orgoglio next gen finisce qui ma è stato bellissimo due a due contro la carrarese ma passa la squadra toscana nessun rimpianto troppo disprezzo dice iuric ciascuno doveva doveva fare due passi verso l'altro per avere più unità viaggio bello ma pieno di insidie quindi così sintetizza la sua esperienza torinista bergamo altra gioia gasperini rimane per cassi lo ha convinto nessuna cessione importante e innesti mirati per volare ancora più in alto atalante tecnico non hanno dubbi continuare insieme è la scelta migliore nei pensieri del napoli c'è spazio solo per conte della orentis freme chiavella chiavelli e manna pressano il tecnico che vuole oriali alternative pioli italiano ma poi il corriere dello sport è chiaro andrà conte pioli addio e lacrime fonseca a te il milan girù ultimo urlo accolto qui come un fratello quindi malumore verso il club la di furlani fischiato quando è stato inquadrato sottolinea federico masini di tutto sport in zaghi veri dirigenti ochtri estate in attivo nicola si sta parlando dell'empoli adesso mai più de rossi per l'orgoglio l'everkusen stanco ma arriva il double garnaccio e mainu united che rivince l'united batte in finale il favorito city e vince la fa cup anche la coppa di francia va al paris saint germain era favoritissimo cremonesi irresistibile vince facile contro il 4 a 1 contro il catanzaro e c'è una bellissima finale cremonese venezia una bellissima finale per arrivare in serie a samp verso l'accordo con ferrero quindi como parma venezia o cremonese catania serata da dimenticare vinceva 1 a 0 aveva vinto l'andata poi però l'avellino ribalta il benevento batte elimina la torres benevento carrarese avellino vicenza che ha vinto contro il padova saranno le semifinali le clerk è in pole position e si sogna cobolli a un solo punto dalla prima finale flavio cede al tie break contro rude peccato alla fine a roland garros il favorito e sinner parigi si apre senza un candidato alla vittoria finale e così yannick non al meglio sembra in vantaggio però sarà dura è stato due settimane fermo e dura voigtman foigtman esalta la carica di milano facile sul brescia ieri alla germani di brescia non bastano i 33 punti di della valle tutto su conte gasperini ci ripensa resta l'atalanta il napoli vira subito su antonio ma c'è una distanza da colmare la gazzetta di sportiva l'inchino del re e questo pogacar che ieri si è reso anche protagonista non solo vincendo sul monte grappa ma poi c'è stato anche l'episodio quando ha dato la sua borraccia a un ragazzino che gliela chiedeva oltre che dare un high five a un altro ragazzo insomma non è solo un corridore sta diventando un mito questo pogacar che vince la sesta tappa appena c'è uno strappo ieri sul monte grappa tadei ha lottato contro se stesso e regalato gesti indimenticabili i giovani sono pazzi di lui sentono che ha qualcosa da dire da dare l'unica cosa riguardo a pogacar che sto seguendo al giro d'italia è che magari così da sportivo non da appassionato totale del ciclismo guardo le grandi imprese è che avesse un grande rivale sarebbe ancora più esaltante e sarebbero ancora più esaltanti le sue vittorie sarebbe andintrebbero ancora più nel mito così è un one man show è molto bello combatte con se stesso però speriamo che trovi presto dei grandi avversari mentre l'italiano tiberi bianca bianco speranza la maglia bianca punto di partenza il meglio deve ancora arrivare il laziale di 22 anni è quinto e miglior giovane l'ultimo era stato aru nel 2015 il mercato di op3 l'inter si allunga priorità bento poi gudmundson e anche c'è l'idea pinamonti a metà settimana il vertice con inzaghi da dan fris a carboni i soldi per i conti per i colpi perché terremi zilischi sono stati già presi non li tocca nessuno la squadra che ha dominato il campionato va a prendersi a verona a verona gli ultima dose di applausi è anche la squadra che prima degli altri ha piazzato i colpi per il futuro altri ancora verranno piste esplorate bento appartiene alla prima categoria la seconda c'è gudmundson che ha tanti estimatori ma che i nerazzurri non hanno mai tolto dalla loro agenta e poi c'è l'opportunità pinamonti il fondo oc3 di ritorno a milano e scrive già a uefa e fifa fantastico addio piolis on fire per l'ultima volta questo fuoco lo terrò acceso separazione consessuale i cicli iniziano e finiscono noi siamo riusciti a farlo durare questa è la cosa migliore per tutti abbiamo ottenuto il massimo massimo ho capito di voler costruire ancora qualcosa di speciale ho l'ambizione di poterci riprovare nei prossimi giorni potrebbero esserci delle cose mi piacerebbe la premiere sto studiando inglese girù segna per il tributo milan sempre nel mio cuore i voti della gazzetta mirante 6 7 calabria 6 gabbia 6 caldara 6 tomori 6 e mezzo ernande 7 florenzi 6 rainders 7 pulisic 6 benasser 6 mezzo leao 6 adli 6 allenatore pioli e andiamo avanti sfida la roma in australia in panchina ci sarà bonera sono attesi 65 mila spettatori si parla ancora di fonseca ha convinto il milan i suoi agenti hanno trattato quello che dovevano trattare hanno strappato il sì rosso nero a paolo non gli resta che aspettare il comunicato con il logo rosso nero secondo i piani del milan non arriverà nella prossima settimana ma solo a inizio giugno dopo l'amichevole di per due anni con opzioni su un terzo oppure un triennale la sostanza non cambia il milan aprirà un nuovo 5 un nuovo ciclo con l'uomo da barreiro cresciuto a un cross di distanza da lisbona il tema più delicato però è la reazione di milanisti fonseca la reputazione di un bravo allenatore con spirito offensivo ma non di un vincente molti milanisti avrebbero voluto un condottiero con palmarès più ampio fonseca in questi giorni sta già pensando al milan del futuro ma milano arriverà stabilmente solo a luglio abate dopo due anni lascia la primavera ora il calcio pro dopo il pareggio in eliminazione contro la lazio contento della scelta chiedono a sacchi riguardo a fonseca sono sincero mi aspettavo un nome più importante o perlomeno siccome sono italiano speravo che i dirigenti scegliessero un allenatore di casa nostra chi ad esempio il milan ha bisogno di uno stratega di un tecnico che sappia dare un gioco alla squadra e che attraverso il gioco valorizzi il materiale umano a disposizione avrebbero fatto il caso del milan de zerbi sarri gasperini italiano motta quelli che ho appena nominato conoscono la fonseca però allenato la roma e poi vediamo cosa dice scelta da bocciare non esageriamo diciamo che è una scelta da valutare attraverso il lavoro la proposta di gioco che sarà offerta al pubblico a fonseca va dato il tempo necessario per assemblare la squadra non si devono dare avere pregiudizi io sarò il primo ad applaudirlo se il milan si divertirà dimostrerà di essere una squadra coraggiosa quali dovrebbero essere le prime mosse di fonseca innanzitutto deve conoscere bene i giocatori che allena vediamo poi l'ultimo punto che cosa si aspetta dal punto di vista tattico mi auguro che riesca a interpretare il calcio in chiave moderna che sia coraggioso che infonda questo coraggio ai suoi ragazzi i tifosi come lo accoglieranno i tifosi del milan sono abituati bene sono passionali e competenti mi aspetto che fonseca proponga un calcio emozionante signora così piace la juventus abbattuto bene il monza la juve si muove per co minors 40 milioni del tesoretto più un giovane presto il vertice con rabbiò occhi su fofanà del monaco atalanta toro la coppa sarà a bordo campo c'è scamacca il torino l'atalanta vuole il terzo posto se l'atalanta battesse il torino diminuirebbero praticamente sarebbero azzerate probabilmente le possibilità che la roma possa arrivare in champions league perché lo ricordiamo per arrivare in champions league dopo la vittoria dell'atalanta in europa league deve assolutamente arrivare quinta se arrivasse quarta o terza che è l'obiettivo dell'atalanta per il per la roma sarebbe finita e giocherebbe l'europa league dieci anni di gas il club propone rinnovo al 2026 ma si discute per un anno in più dei laurenti spunta chiudere in 48 ore due anni con opzione napoli conte allo sprint il ds manna in pressing sul tecnico leccese si discute ancora sulla durata e sui bonus sui bonus ma le parti non sono state mai così vicine dell'aurentis vorrebbe annunciare entro martedì il nome del prossimo allenatore e ha incaricato il direttore sportivo in pectore giovanni manna di spingere sull'acceleratore per trovare un'intesa che accontenti tutti che possa riportare il sorriso a una città intera lazio coppa rivoluzione chiamata finale per la salvezza frosinone sogna la prima volta e l'udinese gioca contro la paura empoli per la storia mai tre salvezzi na guarda al passato per battere la roma nel derby dfa trionfa tenag city distratto niente double buyer company a company che allenava il barley l'anno scorso retrocesso danno 10.5 milioni di euro incredibile cremonese esagerata poker di gol stroppa farà un'altra finale palermo sarà rivoluzione zanetti come direttore e come allenatore avellino ribalta e catania eliminato il vicenza vince ancora padova che valedizione il rinancio di dadal raffa sono competitivo magari ritorno melli trascina forza e cuore brescia cede ed è tutto se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti attivate la campanella e scaricate il link in descrizione